Musica Permettetemi di rivolgere da questa aula anche un sentito ringraziamento agli sforzi straordinari, sottolineo straordinari, di tanti medici, infermieri e di tutti coloro che in questi giorni difficili rischiano la vita per salvare quella degli altri. Grazie Io non sono un eroe. Sono lo stesso a cui fino a qualche mese fa ho lavi contro. Io sono quella che hai insultato per trent'anni per le tue lunghe attese. Sono quello che hai denunciato. Io sono quello che lavora a Natale e anche a Ferragosto. Io sono quello che minacciavi quando ti dava un codice bianco. Sono la stessa che ti ha soccorso quando ti sei messo alla guida ubriaco. Sono quella che volevi picchiare. Sono quella a cui hai lanciato il monitor. Sono sempre quella che hai mandato a quel paese. Sono sempre quella che accodisci i tuoi genitori quando tu non ci sei. Io non sono un eroe. 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 Io sono un infermiere Io sono un infermiere Io sono un infermiere